Da oggi il project financing del nuovo stadio Partegno Lombardi è considerato di pubblica utilità. Il via libere è arrivato ieri sera dal Consiglio Comunale al termine di un lungo e acceso dibattito. In aula l'esordio del neoassessore Albrenda Avellino, la giornalista pugliese Barbara Politi, che ha votato a favore del documento insieme a tutta la maggioranza, compreso il gruppo consigliare Vera, che fa capo politicamente al patron dell'Avellino Calcio, Angelo D'Agostino, proponente del progetto di restauro da 60 milioni di euro che punta ad aggiudicarsi la concessione del diritto di superficie dello stadio per 90 anni. L'obiettivo è creare una struttura da 21.500 posti, con parcheggi e centro commerciale, ristorante panoramico e laboratori medici. In aula Fabio Amatucci, il superconsulente specializzato in project financing, che ha espresso un doppio parere sulla fattibilità e rassicura è un'operazione remunerativa. Il ricavi, il cuore dei ricavi di uno stadio, non può essere il Meccedei, ma deriva da tutta una serie di attività collaterali. Quindi, dal punto di vista complessivo dell'operazione e della remunerazione, è un'operazione che sta in piedi. Una volta avuto il via libera da parte del Consiglio Comunale, entro pochi mesi il proponente, che è l'US Avellino, dovrà presentare il progetto definitivo. Sulla base di questo ci sarà una nuova conferenza di servizi decisoria, che potrà a sua volta modificare alcune delle condizioni dello stadio e poi si tornerà comunque in Consiglio Comunale. Ma prima dell'approvazione, Bagar e Tony Alti durante la votazione dei 16 emendamenti presentati dall'opposizione, tutti bocciati e i sette consiglieri di minoranza hanno lasciato l'aula in segno di protesta. Grazie. Grazie.